E' stata soprannominata la rivolta high tech dietro le mura faticenti e stiamo parlando ancora una volta della situazione delle carceri italiane che dietro le strutture al limite del crollo con celle in cui le condizioni sono simili a gabbie si nasconde un patrimonio ad alta tecnologia tra droni e telefonini smartphone che però non sono in dotazione agli agenti di polizia penitenziaria ma bensì ai detenuti che li usano per portare in carcere droga e per filmare. La denuncia questa volta arriva da Leo Beneducci segretario generale dell'OSAP uno dei sindacati indipendenti della polizia penitenziaria. Il problema non è soltanto il sovraffollamento dice Beneducci ma anche una guerra asimmetrica tra detenuti armati di tecnologia e agenti disarmati dalla burocrazia. La vera emergenza sono le rivolte in questo momento orchestrate con precisione militare grazie ad una rete sommersa di smartphone. L'arsenale dei detenuti secondo il sindacalista è tanto variegato quanto pericoloso. Caffettiere trasformate in mazza inserendole nei calzini o nelle federe dei cuscini, fornelletti a gas convertiti in lanciafiamme artigianali, lame ricavate da oggetti di uso quotidiano. Ma la vera minaccia è invisibile dice ancora Beneducci e riguarda una rete di comunicazione clandestina che trasforma ogni cella in un centro di comando. Nelle sezioni detentive il rapporto di forza è allucinante, un agente contro 50 a volte 150 detenuti high tech grazie agli smartphone, laddove la gente è armato solo di una penna per annotare le infrazioni e si trova a fronteggiare un esercito organizzato via internet. È come mandare un solo vigilo urbano a sedare una rissa tra contrapposte e tifoserie nel parcheggio di uno stadio, precisa il sindacalista OSAP. Il taser per Leo Beneducci non è più un'opzione, è una necessità vitale. Fortezze digitali mascherate da ruderi, gestite dalla criminalità 2.0 e sorvegliate da agenti armati di penne a sfera. Il messaggio è chiaro, o lo Stato si sveglia dal suo letargo tecnologico dotando immediatamente gli agenti di taser e di strumenti a formazione professionali adeguati, o presto non avremo più un sistema carcerario ma un'enclava di anarchia high tech nel cuore delle nostre città, dice Beneducci. Il carcere, luogo di detenzione e teorica riabilitazione, si sta insomma trasformando in una fucina di tossicodipendenza e criminalità.